Non solo a Calarenzi, la Fondazione AN ha deciso di ampliare i suoi orizzonti e distribuire i fondi della cassaforte dell'ex MSI anche a chi ha denunciato Conte e Speranza sul Covid. Pare che la cassaforte sia magica, ogni volta che qualcuno fa una denuncia a membri di partiti di sinistra esce un assegno. Insomma, la Fondazione AN è diventata un po' come una borsa di studio alternativa. Se non puoi più fare politica, almeno puoi ricorrere alla burocrazia giudiziaria per arrotondare. Che dire, una nuova forma di welfare?